Di cosa parliamo? Noi oggi perché siamo qui in questo posto improbabile? Cosa volete da me? Per parlare di un argomento alquanto imbarazzante, a partire dal nome. Ok, più imbarazzante il nome Big Luca. Sì, sì. Di cosa parliamo? Cosa frulla? Posso dirlo ad alta voce? Omni-channel marketing. Il grande e irreprensibile Omni-channel marketing, insomma. Sì. Non sapevo esistesse. A quanto pare è in buona. Delle parole che cercano su YouTube, immagino. È il consulente marketing più pagato al mondo. Ok, benvenuti a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Una giornata con lui costa 20.000 euro. Riconosciuto come il creatore di milionari. Allora, ascolta attentamente il papi. Ha già rivoluzionato le sorti di decine di migliaia di imprenditori. È tra gli esperti più preparati al mondo in campo marketing, business e make money. Abbiamo creato un qualcosa di mai visto prima. Con il suo approccio brutalmente diretto e pratico, è il punto di riferimento mondiale per chiunque voglia generare profitto. Imparare veramente come si fanno più soldi, veramente come si è liberi. Imprenditore, autore e formatore acclamato. Signori, lui è Big Luca. Ma allora, l'Omni Channel, il famosissimo Omni Channel Marketing. Allora, ragazzi, cerchiamo di impostare qualche regola, eccetera. Omni, immagino che il nostro pubblico si riferisca al fatto di usare ogni social media, di mettere contenuto su ogni social, di fare il TikTok, di fare Instagram, di sfruttare in qualche modo ogni canale social. Ho capito bene? Non solo social, è inteso proprio come qualunque tipo di canale di comunicazione. Ecco, allora qua ci sono molte cose da dire, non avremo il tempo di dirle tutte. Poi non so se tu farai un approfondimento o qualcosa di simile. Però diamo qualche consiglio. Allora, il concetto, innanzitutto bisogna dividere la comunicazione dall'acquisizione clienti, perché le persone pensano che siano la stessa cosa, ma non lo sono. Cioè, ci sono dei canali e ci sono dei modi di comunicare alcune cose. Possiamo comunicare il nostro messaggio differenziante, possiamo comunicare chi siamo, possiamo comunicare per chi siamo e per chi non siamo. E questa cosa può essere anche un canale di acquisizione. Facciamo un esempio. Posso fare dei contenuti di YouTube che siano specifici per vendere qualcosa, ok? Quindi dove descrivo il mio prodotto, anche non direttamente, ma posso parlare di un argomento dove poi vado a proporre, parlo di un problema, e questo problema può essere gestito da vari angoli. Quindi parlo del problema, non so, mi viene in mente della perdita peso, ok? Quindi tutti i vari problemi che sono causati dal peso, tutte le domande che la mia audience... Ehi, mi raccomando, iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing, business e profitto. Una persona che opera in questo settore può avere, ecco, che propongo poi la mia soluzione e nella descrizione, la banalizzo però ci capiamo, del video di YouTube, ci può essere un funnel, ci può essere un link a una pagina, una squeeze page, un opt-in o direttamente un acquisto diretto. Vediamo, per esempio, ancora usare, anche a torto, perché la musica sta un po' cambiando, ma comunque la chiamata alla call strategica, ok? È a torto perché ormai bisogna fare un mix molto più intelligente di queste cose. Però ecco che questo è un video dove sicuramente io comunico, sto comunicando qualcosa, ma non è solo comunicazione in senso stretto fino a se stessa, ma è una comunicazione per acquisire dei clienti e ho già un'idea di dove portare clienti. Questo è importante perché in qualche modo il contenuto che io vado a esprimere sul canale di YouTube, sul video di YouTube, deve essere congruente alla pagina che viene dopo, c'è questo principio della congruenza. Quindi quando si apre una porta, le persone si aspettano di vedere congruenza con quello che trovano dopo. Quindi dal prima al dopo ci deve essere una linea comune. Questa è sia una comunicazione, ma non è una comunicazione fine a se stessa. Abbiamo già detto, ragazzi, che comunicare, giusto per comunicare, può essere una cosa molto interessante per voi, ma da un punto di vista imprenditoriale, se non si capisce cosa stiamo comunicando, perché a chi e come vendere alle persone alle quali noi comunichiamo, che cosa comunichiamo, il fatto che loro devono comprare da noi. Se questa cosa non c'è, non è un'azienda e noi non ci occupiamo di questa cosa fondamentalmente. Quindi se volete comunicare ed essere virali sui social per il gusto di esserlo, ci sono persone a cui piace, va bene, e semplicemente produrre il contenuto che diventa più virale, perché poi questa è un'altra cosa. I contenuti virali non saranno quasi mai contenuti che vendono qualcos'altro, sono contenuti che vendono loro stessi e in che valuta vengono pagati in attenzione, in clicks e persone che condividono questa cosa. Ok? Quindi il video virale sarà sempre quello dei gattini, perché io e te non possiamo andare virali. Certo. Cioè siamo brutti come la famiglia. No, tu meno. Ragazzi, lui riceve molti complimenti dal nostro pochissimo, veramente sparuto pubblico femminile. Però due gattini che ballano o il pinguino che fa un ballo o anche adesso va molto, per esempio, il trash. Lasciamo perdere i miei commenti personali su questa cosa e lo vediamo anche dove veramente non dovremmo vederlo. Canali ufficiali, no, Rai e queste cose qui. Ormai il trash, il trash che cos'è? Il gusto dell'orrido, cioè la perversione nel vedere una cosa che fa schifo, che indigna e si crea, no, quella perversione nel guardarla, nell'oscierizzarla e quindi si crea morbosità. Possiamo fare un sacco di esempi. Un incidente crea un'attenzione morbosa. Le code, no, in autostrada, uno dice c'è l'incidente. Ma l'incidente, a meno che non sia in mezzo all'autostrada, molte volte viene rimosso subito dal pronto soccorso, dalla polizia, eccetera, la fila si crea perché ogni cretino che passa si ferma, guarda e deve andare avanti. Si creano code per chilometri. Non c'era più l'incidente quando poi passi, ma l'incidente l'hanno spostato. Perché le persone non vanno? Perché loro stanno pagando, stanno dando attenzione, stanno dando energia all'incidente che è una cosa brutta da vedere, addirittura persone che fanno dei video magari a persone che sono bruciate, cioè cose turche. Quindi bisogna subito anche decidere se noi vogliamo la viralità in senso stretto in quanto tale, perché ci gratifica l'ego, perché vogliamo condividere dei messaggi in modo virale, di solito i messaggi poi condivisi a livello virale sono quasi tutti negativi, però oggi non si parla di questo. Quindi se noi invece non vogliamo la viralità in quanto tale, noi vogliamo certamente raggiungere il numero maggiore di persone possibili, di quali persone e di persone interessate all'acquisto dei nostri prodotti e dei nostri servizi. Infatti è piuttosto difficile andare a produrre video, audio, materiale, informativo, senza avere chiaro a quale mercato ci stiamo rivolgendo e quali prodotti e servizi stiamo proponendo. Il mercato viene prima, cioè se tu non sai bene cosa venderai, ma quantomeno cominci a comunicare in modo interessante al mercato in modo da lasciare aperta una porta per la vendita. Per rifare l'esempio del personal trainer di prima, se io sono un personal trainer non so ancora se venderò corsi o consulenze o coaching di gruppo o libri, ovviamente nelle informazioni noi sappiamo che dovremmo fare un mix di queste cose, però per il pubblico che potrebbe essere digiuno di vendita e informazioni, io non so se avrò un libro, una palestra fisica o farò un corso di Pilates online. Però già il non creare un video virale con qualcuno che urla in palestra, con la bella figa in palestra che si espande velocemente, ma fare invece un video informativo che quindi raccolga un pubblico che vuole maggiori informazioni, ecco che poi quando andrò a proporre i miei prodotti e i miei servizi parlerò a una platea che è interessata a saperne di più, eventualmente anche a pagamento. Questo è anche un attimo il discorso. Quindi queste sono le premesse che devono essere chiare, perché alcune persone non hanno chiaro questo discorso qui. Alcune persone vogliono semplicemente produrre dei contenuti per il gusto di farlo e pensano che maggiori sono i canali di comunicazione, maggiori sono i like, i clicks e le condivisioni di questo video, che da un punto di vista teorico potrebbe anche passare. Uno dice ho un milione di visualizzazioni su TikTok, se vado anche su Instagram avrò TikTok più Instagram, perché noi sappiamo che adesso l'attenzione è molto frastagliata sui vari social e le persone sono su diversi social per diversi motivi e quindi anche qui l'attenzione che uno mette su tutti i social non è paritetica, perché non sono paritetici se vuoi vendere i social media, anche per una questione di età banalmente. Quindi la persona dice sfrutto tutti i canali così mi vedono in di più ed è meglio prendere persone, eyeballs, occhi che mi guardano su sei canali rispetto a uno. Ora come in moltissime cose c'è un elemento di verità e un elemento di non verità. L'elemento di verità è che certamente è meglio avere un'acquisizione multicanale quando l'azienda è abbastanza grossa e strutturata per farlo perché non vuoi dipendere da un canale solo per motivi di ban fondamentalmente. Non vuoi dipendere da una sola fascia di età. Quando si cresce spererei ok che ascoltami devi fare meno casino con quella sedia. Togli la sedia grazie. Perfetto. Se vuoi puoi prendere lo sgabello ok. Tanto questa non la tagliamo. La testa devi far casino che hai. Prendi lo stool non c'è problema ma non posso stare. Come quando registravo e Diego si apriva il twix lentamente che sentivo questo casino qua. Si può registrare in questa situazione. Ok ci siamo? Possiamo continuare? Quindi dicevo come in qualunque cosa c'è una verità e c'è anche una bugia. La verità è bene non dipendere appunto dai canali per questione di ban, per questione di controllo, per questione di fasce di età. Io spererei che un'azienda abbastanza grossa e sicuramente la traiettoria è di poter monetizzare anche varie fasce di età a varie fasce di prezzo. Abbiamo già detto che quindi dobbiamo andarli a prendere. Dove sono persone di diversa fascia di età e disposti a spendere diversamente? Sono in luoghi diversi e dobbiamo parlare a queste persone in modo diverso. Quindi questa è una verità innegabile. Il modo in cui noi parliamo a un imprenditore che magari vuol venire a un mastermind o vuol fare consulenza privata con me ha 25 mila euro e fa 10 milioni dell'anno non può essere il modo in cui l'azienda comunica magari dei percorsi più base per persone che vogliono lasciare il lavoro e guadagnare online da casa. Perché il messaggio poi è quello ma perché di questo si tratta. È chiaro che queste due persone non puoi andarle a prendere con lo stesso messaggio. Detto questo è chiara la mia spiegazione. Perché non so parlo ruota libera poi io non mi fermo più però non è una cosa gestibile all'inizio. Quindi se una persona mi dice io ho un business o un'azienda come dove comunico? Già la parola comunicare mi dà fastidio perché è il presupposto. Mi piacerebbe che una persona mi dicesse dove sono i miei clienti potenziali e come comunico la mia offerta a queste persone? Come comunico quello che vendo? Le persone che mi dicono ma io non so cosa vendere e figlioli cari sarebbe magari il caso soprattutto all'inizio dove voi non sapete molto bene cosa state facendo avere già un'offerta in realtà. Non è neanche un prodotto, è un'offerta, è il modo in cui proponi il prodotto che hai. Poi avremo penso dei video di youtube dove abbiamo specificato cos'è un'offerta perché le persone scambiano offerta per sconto non capendo che lo sconto quantomeno lo sconto percettivo della distruzione del prezzo è parte dell'offerta di solito ma questo non è vero nel contrario. Rimando poi ai video se no vado off topic. Quindi innanzitutto una strategia multi channel è il punto di arrivo. Non è di solito il punto di partenza. Può essere il punto di partenza se ci sono degli investitori dietro, se è una persona a grandi capitali. Io parto subito come il punto finale anche se questo crea dei problemi. Molto difficile filtrare i numeri, molto difficile vedere quale social sta vendendo cosa perché noi vediamo situazioni dove una persona ha sei social media, sei canali. 95 per cento delle vendite vengono per esempio da facebook. Facebook dai giovanotti è considerato il social della nonna però le persone che hanno potere discrezionale di spesa sono su facebook. Questo va capito ci sono i giovani giovani per esempio che hanno tik tok e stanno su quel posto orribile tragico che penso si chiami twitch. Quella assolutamente demenziale io non so come siamo arrivati. Vabbè ok non sanno neanche cos'è instagram. Su instagram c'è la mamma su facebook c'è la nonna ok io stesso ero andato un giorno a cercare per curiosità per vedere cosa stessero combinando i miei ex compagni di scuola di elementari su tik tok e instagram niente la mia generazione su facebook per dire e però anche se molti pensano il contrario anche se molti pensano il contrario da qui non è giusto il salto logico e quindi abbandoniamo gli altri social no un attimo chiaro che se stiamo iniziando ci dobbiamo non abbiamo energie infinite ragazzi nessuno ha energie soldi infiniti se ce li avete bene ma non c'è io non ce li ho noi non ce li abbiamo non so di solito non capita ebbene focalizzarsi sul canale che è più utile per noi ovviamente la domanda che adesso ci faranno è qual è quindi il canale più utile per me non lo so io non ti conosco non so chi tu sei perché la gente pensa che noi sappiamo chi loro sono io so chi sono io ok non so chi sei tu fate delle consulenze comprate i nostri percorsi rivolgetevi alla vostra agency anche perché fare un lavoro per esempio adesso multi channel c'è incominciare ad espandere proprio marketing cominciare a discriminare per vari canali avere multipli messaggi che inevitabilmente dopo un po cos'è che capita mettiamo lo stesso video sui vari social bene sì però in realtà dovresti fare contenuti diversi e l'obiettivo non è massacrarsi di contenuti che vanno prodotti vanno tagliati vanno editati ma di produrre il minor numero di contenuti possibili in virtù delle vendite massime del profitto massimo non è quello di essere solo conosciuti anche perché poi ci sono dei problemi nell'essere conosciuti non so se ne parleremo magari in altri video nel futuro ma la propria immagine la propria faccia spiattellata sui social è una cosa da centellinare paradossalmente no cioè va bene essere conosciuti su tik tok da una mandala di ragazzini che poi non comprano niente a me non va bene cioè io essere fermato per strada da dei ragazzini cioè mi può anche far piacere entro certi limiti ragazzini intendiamo minorenni è perché ci sono 18 19 20 anni non li definisce ragazzini noi abbiamo imprenditori che fanno milioni c'è gente veramente brava sono molto giovani alcuni hanno iniziato anche da minorenni io parlo di un pubblico che a noi non può dare niente possiamo dare noi a loro ci fa piacere gratuitamente ma un dodicenne complimenti se il dodicenne vuole far business è però non so non penso ci spero mai capitato a volte a 16 17 voglio iniziare a capire però sempre molto cauti però nel senso non è questo il pubblico dove noi possiamo andare a vendere a dei corsi o dei percorsi o delle agenzie da decine di migliaia di dollari a livello professionale cioè al massimo comprano il corsettino e va bene ma certamente la nostra attenzione non è nell'andare a instigare loro perché se noi volessimo andare in zigare queste persone qui dovremmo dare dei messaggi che sono per ragazzini il trash l'orrido le ferrari le lamborghini tutte cose più o meno gli orologi per gli uomini dovrei farmi vedere con un sacco di donne cosa che non penso a mia moglie farebbe piacere anzi glielo ho chiesto ha detto di no controllato perché sai no non si sa ma ti darebbe fastidio sì e quindi non si è potuto fare però ci capiamo adesso a parte le battute quindi la strategia come tutte le cose ci sono degli strumenti oltretutto multi channel e multi strumento sono tutti strumenti e dovremmo essere molto molto cauti attenti se usare questi strumenti o no per tutto il resto vi rimando ai nostri percorsi a nostra agency perché mi sta capitando ma anche a me in consulenza sempre di più di persone è capitato l'altro giorno in una consulenza privata hanno dei problemi di di copywriting cioè di comunicazione scritta sulle loro 6 page cioè sul loro punto di di atterraggio delle persone in qualche modo loro non hanno bene non sono entrati molto in sintonia ancora con loro mercato cioè hanno identificato un mercato comunicano la loro offerta ma il mercato non la capisce bene e mi fa come si risolve questa cosa ragazzi mettetevi in mano a gente preparata che possa fare uno studio per voi delle keyword dei messaggi di che cosa fa la concorrenza magari di che cosa succede in america possa tradurre le offerte cioè possa fare un lavoro si direbbe ulistico per capire come si comunica e come si vende a un mercato è quello che separa chi fa soldi da chi non li fa la risposta e non lo so bisogna vedere progressivamente come faccio dei macro concetti ma poi nella pratica così non so se ho risposto a questa tua domanda direi proprio sono stato omnicomprensivo quindi per fare un breve ricapitolo poi appunto ricordiamo di nuovo che c'è un approfondimento sul mio canale si esatto andate sul canale di questo bravo cristiano qui cliccate la campanella iscrivetevi eccetera fatelo anche nel mio canale poi sono sono tutti i miei perché io vi ho comprato proprio lui tra i cammelli poi vabbè adesso non stiamo a dare i dettagli però ragazzi dovete anche stare un po attenti con le buzzword cioè le persone tendono per loro natura a voler non lavorare e a volersi affidare a quella parola che loro sentono senza capire che cosa c'è dentro quella parola in questo gli americani sono maestri ok cosa fa l'americano vi interesserà sapere che moltissime cose molti concetti anche di marketing sono di una banalità assoluta ma vengono venduti con una parola interessante l'americano prende una cosa semplicissima un processo abc una cosa molto 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 piccola lo chiama in un modo e vende il nome no growth hacking le persone io provo ancora molto imbarazzo quando sento la parola growth hacking no guardare i numeri necessari per la crescita e focalizzarsi solo su quei numeri e toccare quei numeri non altri per la crescita ma perché si può fare diversamente lo fanno per dare un senso di novità no a livello di market però nel senso uno si imbarca ma no ma lui fa neuromarketing non esiste neuromarketing esiste il marketing il marketing ha una parte di psicologia manipolazione siccome tu devi parlare a quelle persone sei tenuto a sapere ovviamente l'aspetto psicologico e neurologico già mi dà fastidio usare queste parole perché sono da mio campo delle persone come si vende ma questo è il marketing non c'è non è una branca del non so come spiegare o anche se fosse non si deve usare a livello di keyword piuttosto che avevamo adesso non si usa più perché insomma ci si è resi conto si sono cresciuti insomma i ragazzi hanno imparato funnel hacking funnel mark cioè sono dei termini che non funzionano non vogliono dire niente non ma le persone pensano di poter abbandonare quello che stanno facendo che non sta funzionando non so niente ah ma se facessi neuromarketing ah ma se facessi growth hacking ah ma se facessi ethical e e ogni anno cambiano la definizione di quello che stanno facendo quando in realtà devono imparare la strategia di marketing lo diciamo cioè lo ripetiamo anche nel 2023 purtroppo non c'è soluzione al fatto che dovete formarvi a livello di visione generale del marketing con i vari elementi del marketing e dell'online marketing e dovete ci la dico in modo comprare tanti corsi leggere fare tante cose imparare tante cose per saperle mettere insieme cioè purtroppo come vedete negli anni ho avuto ragione non c'è la soluzione cioè dovete capire che cazzo state facendo se volete fare aziende imprese vendere le cose a un mercato fare solo una ma io ho studiato comunicazione ok è un cacchio di cosa che non vuol dire niente ah ma vuoi dirmi che non c'è l'aspetto comunicativo ma certo che c'è l'aspetto comunicativo dai ma noi giochiamo agli equivoci ma semplicemente è una cosa non so se è chiaro e ti dicono come si fa il prezzo ma cazzo mi ha appena fatto una domanda che include un mare ma non c'è il modo di fare un prezzo nel qui ed ora non c'è non c'è una formula ragazzi matematica che è una cagata c'è un contesto il contesto bisogna saperlo ok fare il prezzo di cosa l'azienda ci sono aziende che fanno dei prezzi apposta per essere in perdita per poi poter essere acquisite comprire i debiti cioè o vuoi fare margine vuoi dover vendere l'azienda quanto ti vuoi espandere quanta cassa devi avere puoi avere un finanziamento del circolante a chi vendi quanto dura questa cosa qui al che ci possiamo espandere a zero margine perché poi c'è un profitto poi il mercato finisce cioè tutti questi discorsi soprattutto fatti a un livello economico perché molti adesso questo non è il video giusto per parlarne tentano di ragionare di ascrivere delle formule dei concetti di società iper plure miliardarie alla loro bottega raga non funziona se volete avere la prova di questo fatelo non funziona un po come dire io gestisco il mio patrimonio ragiono come bill gates ma ho un millesimo neanche del suo patrimonio non funziona ok quindi nel qui ed ora bisogna studiare tanto marketing o rivolgersi ad aziende di formazione agency come le nostre che fanno anche o imparate a farlo o ve lo facciamo noi però va fatto io non so come spiegarla questa cosa cioè è un problema anche per noi io veramente cioè non so se è chiaro questo concetto non è che noi non abbiamo questo problema noi ce l'abbiamo anche noi per proporre i nostri prodotti i nostri servizi ci dobbiamo vendere anche noi quindi non c'è il trucco per non farlo e quindi parlare di buzzword alla cavolo non non aiuta spero di essere stato chiaro e andate a vedere l'approfondimento sul canale del vigna e niente buon lavoro a tutti ciao alla prossima